Quest'anno non è possibile accogliere genitori e studenti all'interno degli edifici scolastici nei modi e nei tempi tradizionali, poiché un ospite inquietante ed irriverente ci costringe a tenerli chiusi, ma abbiamo comunque trovato il modo di farli entrare nella nostra grande scuola attraverso un viaggio virtuale che permetterà di conoscerne gli spazi, le opportunità, i progetti, le buone pratiche, la vivacità culturale. La dirigente scolastica Anna Vassallo comunica con entusiasmo l'iniziativa che coinvolgerà l'intero Liceo Gatto di Agropoli. Nella sezione dedicata all'orientamento in entrata sul sito della scuola www.liceogatto.edu.it sono pubblicate tante informazioni utili, i quadri orari dei diversi indirizzi, le discipline di studio, brochure, video e tanto altro ancora. Cliccando sui diversi indirizzi classico, musicale, scientifico, scienze applicate, linguistico, sarà possibile prenotarsi tramite l'apposito link ai laboratori di orientamento programmati e avventurarsi in un viaggio virtuale alla scoperta delle personali attitudini. Lo slogan che quest'anno accompagna le iscrizioni è Noi ci mettiamo il cuore, costruisci il tuo futuro con noi. Il messaggio che vogliamo comunicare agli studenti, continua Anna Vassallo, è che faremo di tutto per aiutarli a fare la scelta giusta, quella che gli corrisponde meglio di ogni altra e che gli consentirà di iniziare e di continuare un nuovo percorso di studio con serenità ed entusiasmo. Sul sito è possibile prendere visione di video che raccontano le esperienze formative vissute dagli studenti del liceo nei diversi indirizzi. Per qualsiasi dubbio o incertezza si può scrivere all'indirizzo mail orientamento-aliceogatto.edu.it. I referenti dell'orientamento risponderanno tempestivamente.